Tra le tante sfilate applausi scroscianti per PSO, Firenze o PHO. E noi non potevamo farci mancare la madrina di questo grande brand, un grande brand, una grande madrina, Delia Duran. Buongiorno Delia. Buongiorno, sono super contenta di presentare questa nuova collezione, di presentare la femminilità, assolutamente, la donna proprio in tutte le sue sfacciature. Senti, ma PHO o PHO? Allora, dipende come lo vuoi pronunciare. Perché è internazionale. È internazionale, PHO, PHO, Firenze, come lo vuoi pronunciare? Ma è un capolavoro d'arte questa grande stilista e nella sua grandezza non si è voluta far mancare un'altra grande rappresentante. Cioè tu sei la madrina con lei che ha chiuso la sfilata, con lei che rappresenta PHO in Italia e nel mondo. Assolutamente, devo dirti che mi è piaciuta tantissimo questa nuova collezione Fall Winter perché lei si è ispirata alle stile femme, anni 30 alla nostra attualità. Veramente sono capi meravigliosi, sono più bella dell'altro. E che tu le hai calzate tutti con nos, l'ans è grande eleganza. De grande eleganza e grande glamour. Molto high couture. Finalmente, finalmente. Peso un week, finalmente ha delle grandi novità. Assolutamente, delle grandi tendenze come questa, PHO, Firenze. Senti, ma qual è il trend di quest'inverno, cara Délia Duran? Allora, il trend di quest'inverno, visto tantissimo il jeans, sta andando tantissimo, soprattutto quello che è leopardato, tutto quello che è sebrato. Devo dirti che l'animalie va tanto e quindi mi piace tanto. Questa è la tendenza, secondo me, che dobbiamo seguire. Che dobbiamo seguire. E parola di Délia Duran, seguiamo queste tendenze. Fai complimenti alla tua stilista, a con lei che ha voluto te come madrina. Noi abbiamo incontrato tanti commercianti che vendono PHO in Italia, o PHO. PHO o PO Firenze. PO Firenze. No, un grande... Devo dirvi che devo ringraziare questa azienda per avermi avuto in questa nuova collezione. come madrina o come testimonia, dai, testimonia è meglio, è meglio dirlo, testimonia. Complimenti a loro perché hanno fatto veramente dei capi lavoro. Però noi, Délia, non ci stanchiamo mai di te. Noi ti vogliamo vedere nei cartelloni pubblicitari? Vogliamo vederti nei cartelloni, nella cartellonistica e nei negozi? Tra un po' arriverà, perché secondo me tu non lo sai, perché da una vera modella sono diventate anche una grande imprenditrice. Ho creato anche la mia linea di avvigliamento che si chiama Diva Milano, però lancerò quest'anno solo l'estivo i costumi di bagno che sono meravigliose. Meravigliose. Noi non vediamo. E non vi posso dire niente, non vi posso dire, dovete assolutamente attendere. Stay tuned, stay tuned, stay tuned. E' questione di poco, Délia Duran, Facebook, Milano, il top. Grazie. Signore e signori, B.H.O. Firenze, un altro applauso. Bravissimo, bellissimo, complimenti. E quindi vorrei chiamare Michela e Monica, le designer, le stiliste, un bel applauso. Eccolo qua. Bravissime, bravissime, complimenti, complimenti. Allora, vi è piaciuto? Molto, bravissime. Bravissime, anche le modelle, bravissime. È stata la vostra prima sfilata, possiamo dirlo, ovviamente. Braai, sono contento. Poi vedo che comunque qui ci sono un sacco di ospiti, no? Vedo Fabrizio, un applauso a Fabrizio Bezzi, dove sta? Dove sta? Dove sta? Non lo vede, eccolo, vieni, vieni, vieni qua, vieni qua. Allora, ho visto che comunque nella collezione non c'era solo i vostri abiti pazzeschi, c'erano anche comunque dei gioielli splendidi, giusto? Antichità petrolone. Andiamo a dire due parole per loro? Delle ragazze meravigliose, veramente, oltre che delle amiche, e hanno un luogo meraviglioso dove consiglio a tutti di andare, perché è un tuffo nel passato che ti porta direttamente a presenza. Ed ancora per le amiche, gli amici, ma soprattutto questa volta per le amiche che ci seguono da casa, l'immagine della moda in Italia, nel mondo, l'immagine Gaze, in versione presentatore alla Fashion Week. Buongiorno a Stefano Sala. Buongiorno, buongiorno, come va? Molto benissimo, benissimo. Complimenti, un gran presentatore. Davvero, grazie. Praticamente mi hanno sverginato questa sera perché è la mia prima volta che presento qualcosa. Sono emozionatissimo, però mi stai dicendo che sta andando bene. Sta andando benissimo, sta andando veramente bene. E comunque se l'emozione, come è giusto che ci sia, insomma, ogni prima, ti assicuro non la stai trasmettendo. Una solidità scenica. Alla Mike, buongiorno. Alla Mike, buongiorno. Alla Mike, buongiorno di Mecenate. Senti, Fashion Week, parliamo di moda. Il capo maschile per Stefano Sala, out. Out? Secondo me l'out in questo momento è diventato il cardigan. Il cardigan. Il cardigan, cioè è stato troppo usato. C'è stato un momento in cui ha avuto un grandissimo boom, però adesso basta. Cioè, piuttosto preferisco un felpino o un dolce vita che comunque si rappresenta comunque all'eleganza, no? Basta, il cardigan fa molto vecchio. Basta, cambiamo, cambiamo. Invece il capo in? Il capo in resta sempre l'intramontabile giacca. La giacca che puoi comunque avere migliaia di versioni, sia quella elegante che quella un po' più sportiva, ma che comunque aiuta la forma del corpo umano, del corpo maschile, lo rende più sexy, lo rende più imponente, lo rende più importante, lo rende più figo. Bello. Oh, maschio. Maschio, maschio, come piace a noi. Senti Stefano, ascoltate bene fanciulle, una donna, il look in una donna, per vedere poi crollare i suoi piedi Stefano Sala. Uh, guarda, un bel abito da sera ma non troppo volgare. Secondo me deve essere una cosa con un colore abbastanza sgargiante ma non troppo, con uno spacco non troppo esagerato, cioè tra virgolette senza proprio la farfallina perché sennò diventa, uh, no, un po' too much per me, ma deve essere quella cosa del vedo e non vedo, deve lasciare immaginare la mia immaginazione. E andare a scoprire. Andare a scoprire, andare noi a caccia, capito? Invece, invece, il capo out nella donna, nella donna comune, quindi la donna comune non si può vedere vestita? Con l'infradito, in primis. Non ero arrivato a tanto neanch'io. Te lo sognerei di notte. Mitico. Un incubo. Un incubo, un incubo. No, beh, diciamo che... Direi che abbastanza. Cioè, direi che abbastanza. Esatto, esatto. Quindi donne, mi raccomando, l'infradito, anche no. Piuttosto una ciabattina, ecco. Vedo che gli assistenti ti stanno chiamando, tocca di nuovo tornare in scena. Grazie a Stefano Sala per essere stato con noi in Truman TV. Un bacione a tutti di Truman TV. Ciao, a prestissimo. Grazie. Qual è il brand che più l'ha colpita? PHO, assolutamente. PHO Firenze? Sì, assolutamente. Molta classe, molta energia. Molte frange, molto... tutto molto... arabeggiante, come la musica. Molto, molto forte, sì. E tra le tante sfilate, la prima? Sì, sì, la prima, perché è un brand che abbiamo noi in negozio, PHO, che amiamo follemente. Bene, grazie. Grazie a voi. E ci troviamo all'interno del backstage, trucco e parrucco, diventare ancora più belle per le nostre modelle. Pronte a sfilare sulla passerella di Yes Brand Milano. Siamo nell'area stylist. Buonasera. Buonasera. Che acconciatura abbiamo? Allora, per lei stiamo facendo un look leggermente destrutturato, che dà un po' di grinta con questo viso importante, anche perché l'outfit proprio sarà grintoso, per un effetto scenico proprio wow. Deve essere veramente spettacolare. Effetto wow. Wow. È quello che oggi le donne anche ricercano sia quando mettono un outfit, sia nel loro look dei capelli, sia nel make-up. Deve essere proprio... Affrontare la giornata in maniera wow. E quanti wow ti richiedono gli stilisti che scelgono le loro modelle per rappresentare i propri capi? Direi proprio tutti. Tutti vogliono l'effetto wow. Tutti, tutti. Come si fa a soddisfare tutti? Diciamo che l'ascolto, la consulenza, l'attenzione e poi guardare veramente la donna e i suoi punti forti, che ognuno di noi ha. Ognuno di noi ha un punto forte e in quel punto forte bisogna estrarre l'effetto wow. Valorizzare, ricercare, ma non trasformare. Da quanti euro sei nel backstage? Siamo da stamattina, già dalle 9 qui, che stiamo lavorando per questo evento, della Fashion Week. Devo dire, è un'emozione, una ricarica che trasmetteremo non solo ai nostri modelli, ma anche ai vostri saloni. Assolutamente sì. Le vostre clienti. Io vengo da Palermo, quindi scenderò questa emozione al sud. Guarda, allora ti vogliamo rincontrare perché presto saremo a Zagarella, al Domina Coral Bay di Zagarella. ci devi venire a trovare e crearci lì, nella tua Sicilia, un effetto wow. Assolutamente tutti. Wow. Grazie. Grazie a te. L'occhio del maschietto in Passerella. Qual è il brand che più l'ha colpita? Il? Il brand che l'ha più colpita. Ma sicuramente entrambi sono molto, 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 molto validi e poi devo dire che le modelle sono bellissime, ma le vedo come figlie perché c'è mia figlia che sfila. Ah, la figlia, quindi cuore di papà. Cuore di papà, quindi le vedo sotto un occhio diverso e quindi niente, mi sto divertendo un sacco. Cosa ha avuto dei cambiamenti questa Fashion Week a differenza di quelle passate? Ma io è la prima a cui assisto perché di solito mia figlia viene da sola o con la mamma o con altri colleghi, con altre colleghe. Devo dire che la prima esperienza, no, forse la seconda. Ero stato un'altra volta a Milano, avevo seguito Alviero Martini perché aveva sfilato per Alviero Martini, mia figlia, e devo dire che lo standard è molto elevato sia in quell'altro caso che in questo ultimo caso. Grazie mille. Prego. Ed ancora Fashion Week con Silvi Lubamba. Buongiorno, Silvi. Davvero, Ghidli, carissimo, che piacere vederti. Ma che piacere rivederti perché ti vedo ovunque. Sì, è passato poco tempo da Sanremo e da Sanremo alla Milano Fashion Week. Tutto nel mese di febbraio. Tutto febbraio, un febbraio impegnatissimo. Impegnatissimo, sono stanchissima, ma chi molle. Tra l'altro conduttrice di un bel format televisivo notturno. Sì, notturno, che va in onda da mezzanotte a mezzanotte. Su Bun Channel? Su Bun Channel, brave ragazze. E nel frattempo mi arrivano pochi. Io non sono una brava ragazza, però le ragazze che intervisto e che lavorano con me sono tutte brave ragazze. Sono tutte bravissime ragazze. Ma tu sei una bravissima ragazza. Sì, dipende dai punti di vista. Sempre brave ragazze? Sempre brave ragazze. Siamo sempre catalogato nelle bad girls, però non so per quale motivo. Senti, Silvì, ma invece cos'è out del look femminile? Out? Out. Cosa assolutamente la donna non deve calzare? Oddio, non deve più mettersi i mutandoni. Amoliti i mutandoni, vive il perizoma. E vive il perizoma. Eh sì. Invece in un maschietto... Poco femminili, antiestetici. Io quando vedo quelle donne col pantalone aderente e la mutanda dico no, non è possibile. Anche chi ha un bel sedere il mutandone non lo valorizza. È vero. Senti, invece in un maschietto... Allora, per far breccia del cuore di Silvì Lubamba, si deve presentare al tuo cospetto vestito? Ma a me piace molto il maschio vestito con una camicia bianca, jeans e giacca, senza cravatta. Un casual? Sì, casual, casual, sì sì. Mi è sempre piaciuto questo look, mi ha sempre colpito. Quindi amici che ci seguite da casa, prendete nota, jeans, camicia bianca, una giacchetta e subito a cercar Silvì Lubamba. Grazie Silvì Lubamba, buona Fashion Week. Grazie, buon lavoro anche a te. Grazie. Ciao. E da dietro le quinte per Truman TV sta per entrare in passerella le modelle di Reja Silva. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ...della Fashion Week e Fashion Week a 360 gradi perché se sulla passerella sfilano capi stupendi, magnifici, di alta qualità, beh non è la completezza, non è la completezza se la donna, l'uomo non ha questa aurea di fragranza e noi siamo con Giuliana, buongiorno Giuliana, che crea profumi. Assolutamente sì, la nostra azienda che crea gli sprofumi si occupa proprio di creare le fragranze per la persona e non solo anche per la casa e poi le linee si estendono ad arrivare fino al bucato, all'ambiente, a tutto, tutto quello che riguarda le fragranze. Quanto è importante la fragranza e il profumo in un uomo e in una donna attrae perché l'olfatto è uno dei primi segni. L'olfatto è la prima cosa che ci viene sin da bambini, quindi tante fragranze ricordano proprio l'infanzia, per esempio ci siamo ispirate anche a creare delle fragranze basate sull'infanzia come può essere il polvere di talco per esempio che ricorda proprio l'infanzia, gli odori dell'infanzia. E lì ad andare avanti ne abbiamo creato moltissime che possono essere ispirate ai profumi dell'Arabia Saudita che in questo momento stanno andando tantissimo, che è lo stesso che abbiamo sentito. Mamma mia, un aroma, un profumo che ti riempie il cuore, ma qual è lo studio per dire questo sì è il profumo giusto? Lo studio è molto molto impegnativo, ci si passano dei mesi e mesi per creare una sola fragranza e di test proprio specifici perché non è detto che vada bene, possa piacere ma in realtà magari non è un buon prodotto. Ecco, una volta creato il profumo che per Giuliano è il profumo giusto, ci sono dei test? Certo, ci sono dei studi di mercato come possono essere anche questi, infatti oggi stiamo lanciando una nuova fragranza che è Sherry. Per casa? Ambiente? Per ambienti e poi sarà anche per la persona, già abbiamo avuto successo già oggi stesso nelle persone che l'hanno testato abbiamo avuto un buonissimo testo. Io confermo, spettacolari, confermo. Pazzesco, mi fa piacere. Questo per esempio è un test che il riscontro delle persone che lo provano ci dicono se può anche essere una fragranza buona sul mercato, poi si va anche sulla tendenza perché poi giustamente ogni anno, ogni mese esce un nuovo trend e ci si basiamo molto anche su quello. Ma senti Giuliana, i nostri amici e le nostre amiche che ci seguono a casa si fidano molto di meglio, ho detto che il primo profumo che ho sentito è pazzesco, ma dove troviamo i vostri prodotti? I nostri prodotti si possono trovare online sul nostro sito quindi www.crealisprofumi.it oppure andando sul sito di Esbrand trovate tutto quello che volete, ci siamo anche noi come sponsor quindi c'è tutto. E quindi fidatevi, seguitela, acquistate questi prodotti pazzeschi, ma fidanzato? Sono geloso? No, no, è il nostro ragazzo immagine che ha lanciato il prodotto Mad Men. Perché sono arrivate qualche mail, qualche messaggio dalle telespettatrici che puntavano il fanciullo, ma noi abbiamo qui persona, Antonio, vieni Antonio, buongiorno. Dove levate? Eccolo qui carino. Buongiorno. Senti Antonio, comunque grande soddisfazione rappresentare un profumo così forte, così maschile. Assolutamente sì, e io penso che le cose belle quando ti chiamano bisogna solo rispondere. E tu hai risposto. Antonio ha risposto, sì. Senti Antonio, le tue amiche, i tuoi amici che sentono questa fragranza addosso a te. E' quella marcia in più. E' quella marcia in più. Esattamente, proprio così. Quindi va proprio consigliato. Va proprio preso, comprato e acquistato. E questo è tutto merito suo. Contento il fanciullo, abbiamo pure Antonio, ma, grazie Antonio, per i maschietti non ci facciamo mancare nulla. Ed ecco, prego signora, prego cara, il tuo nome, scusami, non te l'ho chiesto prima. Ines. Ines, mamma mia che bella Ines. Ines, tu rappresenti invece la femme, la femme. La femme, fatal. La femme, fatal. Fatal. Hai rappresentato questo importante brand, soddisfazioni. Tante, tante. Per me è un onore essere, rappresentare questo brand. Anche perché è un profumo molto buono, molto sensuale, molto femminile. Fa colpo? Direi proprio di sì. Assolutamente. Lo consiglio. Lo consiglio alle nostre amiche? A tutte. A tutte le nostre amiche. Sentite i consigli della, insomma, rappresentante, assolutamente sì, di questo brand. Pazzesco. Grazie. Ti ringrazio. Grazie. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.